I matatoi sono veri e propri simboli di violenza e crudeltà sugli animali che vi arrivano stipati nei camion per il trasporto. Uno dei più grandi a livello europeo si trova a Ospedaletto Lodigiano, l'inalca, ed è stato scelto da una quindicina di attivisti di Animal Save per dire stop alle crudeltà e riflettere sulla loro sofferenza perché le vacche da latte che sono a fine ciclo produttivo per le aziende diventano carne in scatola e affettati. Ogni camion trasporta circa 36 animali, in pratica in sole tre ore ne passano circa mille. Animali spesso che fanno viaggi molto lunghi in condizioni precarie, al freddo, senza cibo, senza acqua, camminando nei loro liquami. Cerchiamo di chiedere ai camion per qualche minuto di fermarsi per prestare supporto agli animali. Diventa sempre più importante fare scelte consapevoli che vadano nella direzione del rispetto di ogni forma vivente e che si trasformino in azioni concrete per la nostra salute.